Mannaggia la mamma mia, non diceva sempre la moglie di Mabettino, una femmina come me, non la trovi più. E se capisci che non la trovi come la moglie di Mabettino? E che mi si dice, non la nominare, se no mi fai un sacco in capo. Fai un pazzo, che lo fa il principe che l'ha da fare con questo e che rumaneva la serva loro. Proseguono le prove presso l'auditorium Antonio Casagrande di Altavilla Silentina della commedia Miseria e Nobiltà. Il laboratorio teatrale, nato da un progetto ideato da Ornella Peduto della Proloco, vede la presenza di tante persone, molte delle quali per la prima volta si sono avvicinate all'arte del teatro. Il laboratorio teatrale si avvale dell'esperienza e della bravura di Alfredo Crisci, a cui è stata affidata la regia. La rappresentazione Miseria e Nobiltà andrà in scena domenica 14 aprile alle ore 18.30 presso l'auditorium Antonio Casagrande. E' un progetto, questo laboratorio teatrale, nato l'idea, è nato già da parecchio tempo, ed è stata subito accolta con entusiasmo dalla Proloco di cui faccio parte. Devo dire che non è stata una cosa semplice trovare tanti concittadini, gente comune, che partecipassi a questo laboratorio. Ne siamo entusiasti anche perché non solo è stato un momento ricreativo, ma anche di inclusione e anche di distensione psicologica. A questo punto devo ringraziare non solo i miei compagni di viaggio, nonché anche la Proloco, ma soprattutto il regista, che si è speso molto per noi. Anzi, oltre alla veste di regista, ha dato dei consigli, dei suggerimenti, insomma è andato oltre il suo compito. A noi fa piacere, questo progetto chiaramente andrà avanti, non sarà l'unica rappresentazione teatrale, ma pensiamo di portarlo avanti nel tempo. E chiaramente chiunque voglia partecipare, voglio dire, è possibile, è libero, insomma, di potersi mettere in gioco insieme a noi per i prossimi progetti che ci saranno. A questo punto vorrei ringraziare sia l'amministrazione comunale, nonché l'ufficio tecnico per l'utilizzo del nostro bellissimo auditorium, ma anche il signor Carlo Rufo, che è stato disponibilissimo all'inizio delle prove a darci, come dire, per farci usare, insomma, la sala del centro Don Giustino. Certo, Miseria e nobiltà è una commedia abbastanza complessa, che ha diversi attori, circa una quindicina, quindi non è stato semplice portarla al termine. Le prove sono durate dal 10 di gennaio, queste sono le ultime, poi ci saranno le filate e finalmente il 14 di aprile andremo in scena. E vi aspettiamo tutti. Sì, come prologo siamo orgogliosi di questo progetto ideato e coordinato da Ornella Peduto e da un grande senso anche di comunità, in quanto sono coinvolte molte persone. Abbiamo un maestro eccezionale, che io personalmente definisco un genio del teatro, che è Alfredo Crisci, che è un grande orgoglio del nostro territorio. e quindi io vorrei ringraziare tutti, in qualità di vicepresidente, tutte le persone che partecipano a questo laboratorio teatrale, perché poi all'inizio c'è sempre un po' di paura, di timore, poi ci si appassiona, ci si appassiona, ci si conosce e quindi si forma anche unità. Però permettetemi di fare un ringraziamento particolare alla nostra mascotte, che è il piccolo Antonio Iuliano, in arte peppinillo, un bambino eccezionale di 10 anni, che nonostante l'età ha iniziato a fare i suoi sacrifici, ha imparato benissimo la parte ed è il nostro orgoglio. Avete fatto fare quella brutta figura davanti alle sue discepoli, e mi avete fatto chiedere un ammazzatore, da allora dalla vergogna ho deciso di non vedervi più. E dopo sei mesi, quando mi avete chiesto di vedere il nostro figlio, nostro figlio, vostro figlio, Vicenza ha detto che è il mio padre, io vado una gara, perché pensavo che Bettina mia sarebbe tornata, e Bettina non è tornata, e mi è girato curato da Luisella, e il resto è storia. Che bella discolpa, mio padre che faccia i suoi figli senza la camisa. E che ne direste signore, se manca il padre che teneva la camisa. Bella cosa. Vi aspettiamo domenica 14 aprile, presso l'auditorium comunale Antonio Casagrande, alle 18.30. Grazie, vi aspettiamo. E se non mi sa che la mano valga, ma prima da una retina che ti fa? Aspettiamo altri! Aspettiamo, asciutto, che non ti farai passare l'uaglia! Oh, oh, oh! Oh, oh! Oh, oh! 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 Oh, oh! Basta! Sì, non mi piglia schiappa! Ah, che figlia schiappa? A te, a te! Papa, a papa! Impia schiappa a me, E dai, già fanno un cagano a questa parola! Stupi i soldi, finito!